... Omicidio di Bucchiani, collite per sogli, arrestato il figlio della 69enne uccisa, ora piantonato in ospedale. Il fatto di sangue è avvenuto ieri mattina. Liberi i writer abruzzesi fermati in India per aver imbrattato i muri della metropolitana, alloggiano in un albergo di Mumbai, gli avvocati presto e rientro a casa. Ricostruzione detenuti a lavoro nei cantieri post terremoto, lo stabilisce un protocollo firmato dal commissario Legnini, dalla CEI e dal ministro Cattavia. Calcio, Pescara, ora la testa al Cerignola. Dopo il pareggio di Avellino con il Giuliano, Teramo si presenta a Di Giacomo, il nuovo centrocampista bianco-rosso. E ben ritrovati insieme con una nuova edizione del nostro Tg Abruzzo. Una lite per soldi potrebbe essere la causa dell'omicidio di Bucchianico, dove una donna di 69 anni è stata uccisa ieri mattina dal figlio poi arrestato. Il punto nel servizio del nostro Sergio Cinquino. Una discussione per questioni di soldi sarebbe la causa dell'omicidio della 69enne Paola De Vincentis, avvenuto ieri mattina a Bucchianico all'interno del piccolo appartamento in via Cappellina, nel centro del paese. A chiamare il 118 il figlio Cristiano, originario di Pescara, 50enne, arrestato ora per omicidio volontario dai carabinieri della compagnia di Chieti. Una storia di soldi e di continui litigi, l'ultimo la sera prima del delitto, con la donna a cercare disperato aiuto anche al parroco Don Germano Santone, che più volte aveva dato sostegno alla famiglia. Un altro delitto avvenuto a Bucchianico in ambito familiare dopo quello dello scorso luglio, quando un ragazzo affetto da problemi psichici ha ucciso il nonno in preda a un raptus. L'assessore ai servizi sociali di Bucchianico, Valentina Peca. L'assessore è un altro fatto tragico a Bucchianico, è di nuovo una storia triste di famiglia, di fatto è una storia di disagio. Certo, sì, purtroppo neanche noi abbiamo avuto modo e il tempo per approfondire se effettivamente fosse presente un disagio in questa famiglia. Sono arrivati qui da qualche mese e non avevano molte relazioni né con i vicini di casa né con chi frequenta quotidianamente qui la piazza di Bucchianico. Da come stava anche dicendo il parroco, lui ha avuto dei momenti di incontro con la signora, ma perché lei andava a chiedere per problemi economici, chiedeva denaro, soldi al parroco, però non ha mai espresso esplicitamente quale fosse il disagio in famiglia. Diceva semplicemente che erano per il figlio, che il figlio avesse bisogno di soldi. Noi non abbiamo avuto proprio il tempo materiale, non ce l'hanno neanche permesso di poter in qualche modo intervenire proprio appunto con l'assistente sociale e con i servizi che potrebbe offrire il comune. Purtroppo sì, è il secondo evento drammatico che a distanza di pochi mesi succede qui a Bucchianico totalmente differenti perché nell'altro caso appunto era a carico dei servizi sociali, eravamo a conoscenza della realtà dei fatti. Segue l'inchiesta il procuratore della Repubblica di Chieti Giancarlo Ciani. Nelle prossime ore sarà effettuata l'autopsia dal medico legale Cristian Dovidio, mentre continuano i sopralluoghi dei carabinieri coordinati dal tenente colonnello Massimo Dilena. E da una tragedia a una storia che potrebbe avere presto un lieto fine. Parliamo dei writer arrestati in India. Sono quattro ragazzi, due abruzzesi e due marchigiani, sono stati rilasciati in attesa del processo e sperano di poter far presto rientro in Italia. Intanto alloggia in un albergo di Mumbai. Ha sentito i loro avvocati, il nostro Sergio Cinquino. Sono in stato di libertà in un albergo di Mumbai, vicino al Consolato, in attesa degli adempimenti processuali. Quattro writer italiani, due abruzzesi e due marchigiani, dopo la liberazione su cauzione concessa anche dal giudice di Ahmedabad, con l'accusa di aver imbrattato dei treni della metropolitana con dei graffiti. Daniele Starinieri di Spoltore, Gianluca Cudini di Tortoreto, Baldo Sascia di Monte San Vito e Paolo Capecci di Grottamare soprattutto stanno bene. L'accusa, oltre che di violazione di domicilio, come era stata nel Tribunale di Mumbai, che pur aveva concesso la liberazione su cauzione, ad Ahmedabad era anche di danneggiamento. Felici le famiglie che presto riabbracceranno i propri ragazzi. Gli avvocati Vito Morena e Francesca Di Matteo, legali dei quattro writer, spiegano la situazione. Attualmente i ragazzi si trovano in stato di libertà a Mumbai, alloggiano in un hotel, quindi a pochi passi dal consolato italiano, quindi sono in uno stato di relativa tranquillità. Hanno potuto avere l'occasione di interloquire con le famiglie a livello sia audio che video. Siamo in attesa degli adempimenti processuali, di aspetti tecnici dovuti, tipici dell'ordinamento indiano, che ci consentiranno di riportare i quattro ragazzi in Italia. Sulle tempistiche non possiamo dare date certe anche per una questione di correttezza professionale, però parliamo di tempi ragionevoli. Un ragionevole ottimismo e poi anche con le cauzioni che nel frattempo sono già state pagate, adesso loro tecnicamente in che situazione si trovano? Loro si trovano nella situazione di dover adempiere delle disposizioni che il giudice ha dichiarato nell'emissione dell'accettazione dello Stato di libertà, che praticamente prevedono sostanzialmente un comportamento corretto in questi giorni. Scongiurato il rischio venisse poi, venissero tradotti in carcere, quindi adesso invece verosimilmente poi cosa potrebbe accadere? Anche un processo potrebbe esserci più? Sì, potrebbe accadere il processo, però sul processo potrebbero esserci tempi lunghi. Questo vuol dire che loro potrebbero tornare in Italia, il processo potrebbe continuarsi lì in contumacia. Siamo riusciti finalmente a parlare con i ragazzi e anche le loro famiglie hanno parlato con loro, questo ci ha riempito di gioia, siamo tutti più tranquilli e speriamo che i ragazzi tornino presto a casa. Situazione tutta diversa da quella di... Beh sì, sono state settimane pesanti, soprattutto per le famiglie. Ora la cronaca giudiziaria, perché la procura di Pescara ha chiuso le indagini relative all'attività dell'imprenditore Vincenzo Marinelli, culminate con le misure cautelari del 14 giugno per 5 persone coinvolte. Ora gli indagati sono saliti a 35. Ci fa il punto Sara Delvecchio. Sono 35 gli indagati, 26 persone fisiche e 9 fra società e associazioni sportive nell'inchiesta della procura di Pescara sulle attività dell'imprenditore della sanità Vincenzo Marinelli, culminata con le misure cautelari del 14 giugno scorso per 5 dei personaggi coinvolti. Ora spunta anche il nome del presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri. A giugno, oltre a Marinelli, finirono ai domiciliari il suo factotum Graziano Canonico, la dirigente dell'ASL di Pescara Tiziana Pedrella, il funzionario ASL Antonio Verna e l'imprenditore Fabio Tonelli. Oggi, secondo quanto precisa il quotidiano Il Centro, il PM Andrea Di Giovanni spedisce l'avviso di conclusione delle indagini, prologo della richiesta di processo. Si parla in particolare di 5 gare che sarebbero state pilotate per oltre 35 milioni di euro. I reati sono, a vario titolo, turbata, libertà degli incanti, corruzione ed evasione fiscale. La novità più rilevante di questo avviso di conclusione delle indagini e la gara per i 181 letti elettrici del Covid Hospital di Pescara che il PM contesta, tra gli altri, anche a Lorenzo Sospiri e a Massimo Valdes della Il Rom, società che si aggiudicò quella gara, da circa 700 mila euro. A Sospiri, secondo quanto riporta il Centro, si contesta anche di aver promesso di sollecitare e appoggiare in sede politica regionale l'indizione della gara per il project financing per i servizi di radioterapia e diagnostica integrata all'Asla di Chieti per un importo a carico del bilancio regionale di 8 milioni l'anno e per la durata di 11 anni. E ora una storia surreale. Una Fiat Panda ferma lungo la corsia di sorpasso della 24 con il motore e i fari spenti di notte. Decine di segnalazioni che arrivano alla Polizia di Stato ma la sorpresa per gli agenti è stata grande quando arrivati sul posto nella carreggiata in direzione Roma vicino al casello di Colle d'Area in provincia di Teramo hanno trovato a bordo un uomo che dormiva. Subito sono state attivate in collaborazione con gli ausiliari della viabilità della concessionaria tutte le procedure di sicurezza a garanzia dell'automobilista e degli altri utenti della strada. Con molta difficoltà il veicolo è stato fatto spostare nella corsia d'emergenza. Il giovane conducente dell'auto fa sapere la polizia stradale versava in condizioni talmente alterate da non consentirgli di proseguire la marcia per tale motivo è stato sanzionato per guida sotto effetto dell'alcol con sequestro del veicolo. Grazie 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 Sul tema rispetto alla prospettiva, rispetto alla prevenzione, perché la prevenzione è un punto di riferimento molto importante. Innanzitutto investendo continuamente su nuovi macchinari e nuovi impianti. E secondo, investire sui lavoratori e le lavoratrici, ma anche sui datori di lavoro, per quanto riguarda il tema della formazione. E anche sull'apprendimento, perché sono due elementi molto importanti per poter lavorare in sicurezza nei luoghi di lavoro. E sull'alternanza scuola-lavoro, Colombini risponde così. Bisogna rilanciare sempre questa attenzione sull'alternanza scuola-lavoro, perché è una bella esperienza. I tre casi purtroppo dei ragazzi morti quest'anno mettono non in discussione questa opportunità, ma devono rilanciare un'attenzione maggiore da parte dei delegati della scuola e dei delegati del luogo di lavoro dove viene effettuata l'alternanza scuola-lavoro. E dall'altro lato mettere in evidenza la sicurezza anche per questi ragazzi, perché è una cosa importante salvaguardare la vita anche di loro. Quasi 300 kg di pesce sono stati sequestrati dalla Guardia Costiera di Pescara nell'ambito dell'operazione Paranza, caratterizzata da ben 72 ispezioni, 139 controlli, 19 illeciti rilevati e perfino 45 mila euro di sanzioni. L'inchiesta, portata a termine dagli uomini coordinati dal direttore marittimo Marcello Luigi Notaro, ha portato al compimento di ispezioni in ciascuna delle fasi che costituisce la filiera. Durante i controlli sono state riscontrate anche violazioni riguardo alla pubblicità ingannevole o al mancato rispetto della data di scadenza dei generi alimentari. Grazie. Voltiamo pagina, anche i detenuti di Marche e Abruzzo lavoreranno nei cantieri della ricostruzione post-terremoto. Sentiamo Matteo Porfili. Anche i detenuti lavoreranno nei cantieri della ricostruzione post-terremoto. Lo stabilisce il protocollo d'intesa siglato in queste ore dal commissario Giovanni Legnini, il ministro della giustizia Marta Cartabia, il presidente della CEI, il cardinale Matteo Maria Zuppi, il presidente del Consiglio Nazionale dell'Anci Anzo Bianco e il vicepresidente Ance Piero Petrucco. Le persone detenute in dieci province delle regioni di Marche, Abruzzo, Lazio, Molise e Umbria avranno l'occasione di lavorare nei cantieri di oltre 5.000 opere di ricostruzione pubblica e in quelli di 2.500 chiese danneggiate dal terremoto del 2016. L'obiettivo del protocollo è quello di aumentare le opportunità di lavoro, strumento indispensabile per il pieno reinserimento sociale di chi sta scontando una pena detentiva in 35 istituti del centro Italia. Questa idea della ricostruzione è un'idea molto forte anche simbolicamente in cui non si può non intravedere la possibilità anche per i detenuti attraverso la ricostruzione di strutture così importanti per la comunità, anche la ricostruzione della loro stessa vita con una prospettiva di professione ma anche proprio di concepirsi dentro la comunità. Io credo che questo sia un aspetto importante, un lavoro in cui l'utilità del tempo non è a servizio solo di se stessi ma insieme si ricostruisce anche la comunità in cui si vuole rientrare. Al commissario straordinario spetterà la funzione di raccordo delle attività. È un atto questo di grande significato, denso di valori, ma adesso dobbiamo oltre che firmarlo attuarlo come diceva il ministro e questo richiederà un lavoro, non basta fare il protocollo e da domani ci metteremo all'opera. Con il protocollo viene anche definito un comitato paritetico di gestione composto dai rappresentanti dei firmatari che sarà istituito entro 15 giorni con il compito di promuovere e monitorare le attività previste dal documento e coordinare le azioni degli enti e dei soggetti che hanno aderito al progetto. Boom di presenze ha torturito in questa stagione turistica numeri più alti rispetto anche al 2019 quando non c'era il Covid e dunque non si parlava di pandemia. L'ottobrata vibratiana regala a tepore qualcuno ancora approfitta dell'ultimo urlo africano prima del cambiamento climatico per godersi la spiaggia. Nel frattempo Tortoreto fa i conti della stagione estiva ufficialmente conclusa a settembre registrando presenze turistiche superiori al 2019. Sono oltre 482.000 pernottamenti con un aumento del 14% sull'anno precedente ed oltre 79.000 gli ospiti giunti a Tortoreto numeri a cui andranno sommati quelli di maggio, inizio giugno e settembre. I dati provenienti dal software di applicazione degli imposti di soggiorno ci consegnano una stagione estiva davvero entusiasmante poiché le presenze registrate sono superiori del 14% rispetto allo scorso anno e comunque, dato ancora più importante, del 5% rispetto al 2019 che è l'anno prepandemico che abbiamo utilizzato a riferimento. Questi dati sono ancora più importanti se teniamo conto del fatto che abbiamo ospitato circa 400 ucraini nel nostro territorio e nelle nostre strutture i quali ovviamente non vengono conteggiati nelle presenze turistiche. Questo risultato è frutto di un lavoro di squadra con le categorie e quindi con gli operatori del settore con i quali abbiamo instaurato questa collaborazione che dura ormai da anni e che quest'anno si è concretata in una campagna promozionale di grande effetto in tante attività, nelle animazioni per bambini, tanti eventi e quindi una azione sinergica a tutto tondo che ha permesso che Tortoreto fosse ancora più accogliente e evidentemente i nostri turisti lo hanno notato ed apprezzato. Sono aumentati anche gli ospiti stranieri, specie svizzeri e tedeschi mentre sul piano nazionale le principali città di provenienza sono Roma e Milano. In aumento la presenza media rispetto agli anni scorsi si va da qualche giorno a due settimane. Virginia Spinelli, la ragazza di Etnia Rom, che è stata anche protagonista di una delle nostre storie di Mio Pongo, ha pubblicato il suo primo libro dal titolo Ali Sporche. Sentiamo. Con Ali Sporche si può dire che si avverò un sogno nel cassetto di Virginia Spinelli? A metà, perché Ali Sporche inizia come un percorso di rinascita, sono a metà. Quando raggiungerò il mio obiettivo lì sarò completamente felice. Adesso come ti senti? Bene al momento, in pace con me stessa. Due anni fa la sua intervista per la trasmissione Mio Pongo in cui denunciava il pregiudizio e l'esclusione nei confronti di chi, come lei, è diverso. Ora Virginia Spinelli, 27enne di Etnia Rom, ha pubblicato il libro dal titolo Ali Sporche al primo posto nella maratona di lettura del progetto Reading Circle. Un sogno che si avvera perché Virginia ha sempre amato la scrittura. Si è diplomata all'Aterno Mantone dove è stato presentato il suo testo in occasione dell'open day della scuola serale. Ora si è anche iscritta all'università. Nel quartiere Rancitelli ci sono le sue radici ed è proprio da lì che sta spiccando il volo, senza però andare via. Spero di dare un contributo positivo con questo incontro con l'istituto tecnico Mantone perché ho studiato qui gli ultimi tre anni. Nonostante mi sia iscritta all'università, le mie radici al momento sono qui e quindi spero di dare una luce positiva. Il mio cognome, la mia etnia non è solo disagio o illegalità, c'è molto molto di più e spero che le persone possano scoprirlo. Alla domanda se te ne andrai mai da Pescara hai detto no, voglio restare. Perché? Perché non voglio scappare da qualcosa che non mi appartiene, un'altra città non mi appartiene, Pescara mi appartiene. Sono felice di star qui, nonostante tutte le difficoltà. L'amministrazione comunale è pronta ad abbattere il ferro di cavallo. Tu che vivi qui da sempre, cosa ne pensi? Allora, il ferro di cavallo è storia fondamentalmente, le radici sono quelle. Penso che ci dovrebbe essere soprattutto un piano per ricostruirlo, non buttarlo giù. Il calcio, la serie C, il Pescara vuole dimenticare la trasferta con il Giuliano e pensa alla sfida di sabato pomeriggio con il Cerignola all'Adriatico. Sergio Cinquino. La roccambolesca trasferta di Avellino con il Giuliano è ormai alle spalle. Con essa il clamoroso errore arbitrale che ha portato a uno scambio di persona nell'espulsione del difensore Milani che avrebbe dovuto invece eventualmente riguardare il collega di reparto brosco e per il quale la società non presenterà ricorso. Errore non riconosciuto dal fischietto Ubaldi di Roma nel suo referto. La partita dunque non si rigiocherà. Un pari comunque importante per come è stato conquistato il Pescara di Alberto Colombo che si è detto orgoglioso di come la squadra ha superato il momento difficile della gara con la formazione campana pensa già alla sfida di sabato all'Adriatico con inizio alle 14.30 con il Cerignola nella quale i Biancazzurri cercheranno di ridurre il gap che è cresciuto dopo l'1-1 sul neutro del Partegno nei confronti di Crotone e Catanzaro, quest'ultima prima in classifica ora con 5 punti di margine sui Biancazzurri. Un turno casalingo che, spera Colombo, porterà altri gol per una squadra che nelle ultime due partite interne tra Coppa Italia e campionato con Vispesaro e Andrea ha segnato nove reti senza subirne nessuna. Un buon momento, a parte la piccola disavventura con il Giuliano che non riguarda la condizione di forma della squadra che anzi ha problemi di abbondanza. Con l'ottimo rientro di Aloia a centrocampo, autore del gol del pari con il Giuliano, il recupero di Crecco e la consapevolezza di avere un leader come Luca Mora sul quale la squadra può contare anche nei momenti più difficili. Oltre naturalmente a Palmiero, playmaker di categoria superiore per un reparto di sicuro affidamento che può contare anche sulle ottime alternative, Craja e Jabois e lo stesso Germinario. In attacco con il Cerignola, spazio di nuovo all'Escano e Cuppone con delle Monache che cerca il primo gol in campionato. Il calcio in promozione, il Teramo continua a preparare la sfida in trasferta con la Rosetana. Intanto si è presentato il centrocampista Matteo Di Giacomo. Prosegue la preparazione del città di Teramo in vista della trasferta di Roseto domenica alle 15.30. Non saranno sicuramente disponibili il centrocampista Tato, problemi al ginocchio e l'esterno offensivo Giacomo Calderaro che ha un problema muscolare. Oltre al tersino sinistro Marco Antonelli, sotto osservazione il difensore Alfonso Pepe che potrebbe farcela, magari partendo dalla panchina, torna a disposizione dopo la squalifica nel reparto offensivo il Lettone Kovalonoske. Ieri in prova al besto di San Nicolò si è aggregato al gruppo Enoch Opakinka, esterno d'attacco di nazionalità irlandese classe 2004 che sarà valutato dallo staff tecnico nei prossimi giorni. Intanto l'ultima operazione di mercato andata a buon fine è stata quella dell'ingaggio del centrocampista Matteo Di Giacomo che si è presentato così ai nostri microfoni. Ci racconti di questa scelta di Teramo? La scelta è stata breve, sia il direttore che il mister mi hanno voluto. Il progetto mi sembra abbastanza serio e quindi c'è molta voglia di risalire e di riprendere le categorie che aspettano al Teramo. È stata un'estate diciamo difficile nel senso che sono dovuto allenare da solo comunque facendomi seguire dai preparatori che ho avuto però dai ho sempre sperato che ci potesse essere una svolta. Sono un giocatore duttile però effettivamente mi sento più un centrocampista. Dove serve io comunque sono disponibile. Ci sono diversi infortunati per domenica quindi credi di trovare spazio in squadra e poi cosa ci puoi dire di questo prossimo incontro che attende il Teramo contro la Rosetana? Spero sì di trovare spazio chiaramente. Lo stiamo facendo molto bene già da martedì dal rinizio degli allenamenti. Sarà un match come tutti gli altri, importanti. Dobbiamo pensare chiaramente passo dopo passo. È un match importante chiaramente e dobbiamo vincerlo. E anche per questa edizione è tutto. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.